Leonardo Tortola, responsabile provinciale CGL per il combattimento di igiene ambientale. Siamo qua stamattina per avere un incontro con l'assessore Bellacosa e il commissario del Gaudio per discutere in merito a problematiche che riguardano i lavoratori del Consorzio Salerno 4, lavoratori oramai da mesi senza stipendio, lavoratori preoccupati per il proprio futuro anche in virtù delle procedure unilateralmente adottate dal commissario del Gaudio per mettere questi lavoratori in mobilità. Sappiamo benissimo quello che è previsto dalla legge del 5 gennaio 2014 in virtù di Costituzione dei Ghiato. Vogliamo chiedere all'assessore Bellacosa e al commissario che purtroppo a quest'ora non è ancora presente di ritirare le procedure ad ORAS e di attivarsi per come è previsto dalla legge regionale in virtù del mantenimento dei livelli occupazionali e delle garanzie per questi lavoratori e per le società passate. Il Consorzio di Bacino Salerno 4 per le loro corrette rivendicazioni. Fino a questo momento io non ho avuto motivo di contestare le loro doianze, anzi le ho sempre sostenute, ma è anche corretto che ci sia un confronto con chi rappresenta il Consorzio. Noi come provincia abbiamo soltanto il potere e il dovere di controllare che si rispettino le leggi e i regolamenti. Ad oggi abbiamo una chiara legge regionale che tutela tutti quanti i dipendenti del comparto e io oggi verificherò con loro all'esito di questo che vuole essere anche un tavolo tecnico che vengano rispettate leggi e procedure. Troviamo un attimo a separare le vicende. Perché io prima, vedendo anche i rappresentanti provinciali, in realtà io raccolto sollecitazioni anche in relazione al provvedimento che ha fatto il commissario del Consorzio Salerno 4, magari su questo dico a Leonardo, a Gennaro, magari su questo ci tratteniamo un attimo a fine di Leone. Nessuna comunicazione, al di là della direttiva, ve lo voglio dire con chiarezza, io ho girato a qualcuno di voi che me l'ha chiesto la direttiva che avevo trasmesso a tutti i commissari guidatori, quindi a tutti e quattro i commissari guidatori, che è una direttiva chiara e semplice che peraltro veniva fuori da un incontro, confronto con anche l'assessore regionale di Giovanni Romano. Dopo il nostro incontro del 21 marzo 2014, quindi il 21 marzo, non ieri e l'altro ieri, praticamente il 21 marzo, anche alla presenza dell'assessore regionale Giovanni Romano, ci eravamo dati appuntamenti del successivo 28 marzo così da fare il punto della situazione sulla attuazione delle ultime disposizioni, non va dire, il ritenimento della chiara legge regionale. di fatto che il successivo 28 marzo 2014, cioè noi il 21 marzo